chi ha detto che la volpe non può raggiungere l'uva magari un chicco alla volta chissà ci sono argomenti di studio che possono sembrare difficili ma basta affrontarli con il giusto slancio e allora perché non cominciare a piluccare qualcosa proprio ora potete iscrivervi al canale cliccando sul campanellino per avere le notifiche e se qualche video vi piace mi raccomando mettete like arrivederci a presto e buona navigazione